La Regione non ha voluto inserire l'allargamento, quindi anche l'estensione degli spazi della Casa della Salute di Vallefoglia nella progettazione per il PNRR. Eppure queste sono risorse che non arrivano direttamente dalla nostra Regione ma dal Governo grazie all'Unione Europea. Ora sembra che arrivino soldi a pioggia per nuove strutture, nuovi ospedali, case di comunità e invece il PNRR chiedeva precisamente di investire nella medicina del territorio e quindi in quelle che sono le case della salute proprio come quella che noi abbiamo a Vallefoglia. Io temo che si rischi di perdere un'occasione unica perché questa struttura deve diventare un punto di riferimento per tutta la zona tra Pesaro e Urbino e dare al supporto così anche a quelle che sono le strutture già presenti lungo la costa Pesaro per evitare che tutti gli utenti sovraccarichino e quindi vadano a pesare negli ospedali di Pesaro. Dal Governo arriveranno dal PNRR 182 milioni di euro se siamo in grado di presentare progetti adeguati e in linea con quelle che sono le caratteristiche, le linee guida del piano. Io dubito che tutto ciò che chiede la nostra Regione rientri, ad esempio gli adeguamenti antincendio e antisismica non possono rientrare per cui sarebbe stato necessario invece valutare l'inserimento di una struttura come quella della Casa della Salute. Proprio il PNRR chiede che le case di comunità, quindi appunto come quella di Vallefoglia, debbano occuparsi di tutta quella medicina che offre servizi intermedi tra le acuzie e il pronto soccorso, medicina sportiva, medico di base, pediatra. Guardia medica che manca non solo a Vallefoglia ma anche a Pesaro, anche a Gabice e sembra che tra pochi giorni mancherà anche a Fanno e Mondolfo. Esatto, proprio così siamo molto preoccupati perché nell'arco di meno di un anno, ma di 5-6 mesi, la Regione Marche, la Giunta Quaroli, ha chiuso, abbattendoli proprio come un domino a scaletta, sette postazioni di guardia medica. Sette considerando anche Fanno e Mondolfo che sono a rischi, chiuso totalmente o parzialmente intendo. E per ciò che riguarda in particolare Vallefoglia ci rendiamo conto che questo è un presidio fondamentale che deve essere riaperto al più presto. L'assessore alla salute Salta Martini continua a dire che il problema dipende dalla carenza di medici. Io sono andata ad indagare, il problema non è la carenza di medici ma le condizioni insostenibili a cui la Regione chiede di lavorare. Da 27 medici che avevamo nel nostro distretto siamo passati a 5-6. Allora viene chiesto di fare la stessa cosa, lo stesso servizio che prima facevano in 27, ad un compenso di circa 23 euro l'orde l'ora. Immaginiamo cosa possa significare per un medico rimanere solo a coprire il triplo dei turni per 23 euro l'orde la notte con un'infinità di rischi. Il problema però può essere risolto amministrativamente e basterebbe che l'assessore Salta Martini facesse come hanno fatto in altre regioni ciò che può agevolare l'impegno dei medici sottoscrivendo il contratto integrativo regionale che permette di portare il compenso orario da 23 euro a 30 euro l'ora. L'assessore Salta Martini ha la richiesta di accordo integrativo regionale per alzare il compenso orario da aprile e ancora non l'ha firmato.